Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e voi mi sarete testimoni. Il video ce lo ricordavo, era questo il tema che ha portato 500.000 ragazzi da tutto il mondo a convergere verso Sidney attorno alla Croce di Gesù. Perché la GMG è un'esperienza mondiale, ma prima di essere catalizzata attorno alla figura del Papa, attorno alla Croce di Gesù. Ogni GMG si apre con questa Croce di Gesù ed è il Santo Padre che invita tutti i giovani del mondo a convergere verso quella Croce che richiama il mistero pasquale di Cristo che è fonte della nostra vita cristiana. E' di lì che parte tutto, da quel mistero pasquale, quella Croce vuota, ma che porta le tracce, i segni del Cristo risorto. Pensando anche alle parole con le quali il Santo Padre, il compianto Benedetto XVI, invitava i ragazzi nel 2008 a partecipare a Sidney a luglio, nel messaggio per la giornata mondiale della gioventù, lui faceva riferimento proprio al dono dello Spirito Santo. Ma chi è lo Spirito nella tua vita? Che ruolo gioca lo Spirito Santo nella tua vita? Era questa la domanda con la quale il Santo Padre voleva provocare i ragazzi in quel momento storico. Che ruolo gioca lo Spirito Santo? E quella danza degli aborigini australiani che accolgono Benedetto XVI a Sidney è emblematica. Perché veniva accolto proprio da quelli che venivano ritenuti dei senza Cristo. delle persone, forse omuncoli, per richiamare un'antica espressione di sepulveda, omuncoli, cioè non degni. E invece proprio quella danza che accoglie il Santo Padre e quel perdono che il Primo Ministro chiede pubblicamente al Parlamento sono dei segni fondamentali che preparano a quell'incontro mondiale. Preparano. In qualche modo sono stato una profezia grande. Una profezia grande. A richiamare la dignità filiale. Ancora oggi la maggior parte dei cattolici in Australia sono aborigeni. Sono aborigeni. Allora questo ci deve dire qualche cosa, no? Che ruolo gioca lo Spirito Santo nella nostra vita? Nella nostra vita di Chiesa. Con i giovani. E quante volte anche noi un po' più adulti ci siamo ritrovati a lamentarci dei giovani, no? Degli adolescenti. Eh, ma non sono, non fanno, non dicono. Eppure hanno ricevuto lo Spirito Santo come l'hai ricevuto tu. Allora forse il compito nostro di adulti e in quel momento Papa Benedetto ce lo stava facendo vedere con quell'incontro con gli aborigeni ma anche con quella nave forse il nostro compito di adulti è quello di favorire il racconto dell'azione dello Spirito nella vita dei ragazzi. Di favorire. In questo periodo con gli amici del Centro Diocesano Vocazioni e della Pastorella Giovanile e della Mediocesi stiamo incontrando i ragazzi nelle classi delle scuole superiori. Bene. Ma quanta azione di Spirito Santo in ragazzi che non frequentano le nostre comunità, gruppi ecclesiali, parrocchiali, movimenti, associazioni, eppure non posso non dire che non c'è la presenza dello Spirito Santo in questi ragazzi. Non lo possiamo dire. non lo possiamo dire solo perché non corrispondono e non rispondono ai nostri canoni cattolici, parrocchiali o forse anche un po' parrocchiosi. E allora il dono dello Spirito che non sai da dove viene e dove va il dono dello Spirito ci richiama alla freschezza dello Spirito Santo che gli adolescenti e i giovani in qualche modo richiamano a noi adulti che tendiamo un po' ad abbassare un po' i toni ad appiattire un po' le situazioni tendiamo un po' alla ricerca degli equilibri. Beh, gli adolescenti e i giovani gli equilibri non li vogliono. E forse questa è una profezia dello Spirito Santo. Papa Francesco parla di una chiesa in disequilibrio. Ed è proprio, se ci pensi, il disequilibrio che ti permette di camminare. Noi quando camminiamo camminiamo su un piede alla volta. Facci caso. Il disequilibrio ci permette di camminare. Allora non temiamo il disequilibrio che ci raccontano gli adolescenti e i giovani che conosciamo o che incrociamo per le strade dei nostri paesi nelle nostre città. Non li temiamo. Non temiamo quel disequilibrio. Anzi lasciamoci provocare perché forse quel disequilibrio è dono dello Spirito. È dono dello Spirito Santo che scenderà su di noi. Scende su di noi e del quale noi siamo testimoni. Perché quando incontri il Signore nella tua vita altro che equilibri è tutto in subbuglio ed è proprio la cifra del subbuglio del disequilibrio che racconta dello Spirito in te. Allora Papa Benedetto nel discorso con il quale preparava i ragazzi a incontrarli a Sidney parlava dello Spirito Santo come principio di comunione principio di comunione. e nel Vangelo di Giovanni sappiamo che la comunione si può dire in un altro modo verità. Era una parola carissima a Papa Benedetto la verità e nel discorso di apertura che farà lui stesso a Sidney accogliendo tutti i ragazzi lì sulle rive del mare citerà proprio la verità Cristo verità ma nel Vangelo di Giovanni chi è la verità? È Cristo sì ma è la comunione cioè la relazione è questo che ci rende liberi la relazione ci rende liberi la relazione tra il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo è colui che ci fa relazione con il Padre e con lo Spirito e tra di noi. Allora accogliamo questa provocazione dello Spirito Santo oggi alla luce proprio della GMG facendo memoria della GMG a Sidney nel 2008 e delle parole di Papa Benedetto in quel momento storico di quella danza degli aborigini australiani della richiesta di perdono del primo ministro facciamo memoria di tutto questo perché forse il dono dello Spirito continua a parlare oggi a te a me a noi a tutti i ragazzi che in qualche modo cercano un senso nella loro esistenza non lo chiamano Dio e forse da adolescenti e da giovani non lo abbiamo chiamato neanche noi Dio eppure sappiamo che quella ricerca di senso è Lui che agisce in noi è Lui che agisce in noi perché lo Spirito è colui che è Signore e dà la vita e la vita è disequilibrio la vita è missione perché non lo puoi contenere ti rendi conto che non lo puoi tenere per te ti rendi conto che tutta la tua vita parla di Dio che tutta la vita dei fratelli delle sorelle parlano di Dio allora non c'è bisogno che la missione sia portare Cristo agli altri confesso mi sono confessato per tutte le volte in cui ho detto dobbiamo portare Cristo agli altri perché gratta gratta che cosa pensavo che gli altri fossero dei senza Cristo e quindi Cristo glielo dovevo portare io e invece la missione l'evangelizzazione e gli amici della Laudato Si e dell'Istituto dei Servi della Sofferenza lo sanno bene l'esperienza di evangelizzazione non è portare Cristo agli altri ma gettare una parola di luce nella vita degli altri e in modo particolare nella vita dei giovani degli adolescenti perché si accorgano che Cristo nella loro vita c'è sempre stato che Dio nella loro vita c'è sempre stato non glielo stai portando tu perché se hanno ricevuto il battesimo come l'hai ricevuto tu il Signore nella loro vita c'è c'è allora gettare una parola di luce perché si accorgano che il Signore nella loro vita c'è allora veramente chiediamo una speciale intercessione a Maria a Maria questa sera e nella nella cadenza del Rosario portiamo tutti quei ragazzi e quelle ragazze che sono in ricerca di un senso della loro esistenza perché si accorgano che Dio non li ha mai abbandonati mai mai e mai li abbandonerà come non ha abbandonato noi e mai ci abbandonerà grazie a tutti